Il 2016 per la CGL si apre con un intento, quello di garantire l'inclusione contrattuale a tutti quei giovani rimasti nel precariato all'interno della stessa azienda ormai da anni e la CGL si rivolge ad aziende ben precise. Noi abbiamo un accordo importante con l'Alfa Wasserman di Alanno in cui l'azienda dichiara che la prospettiva è il lavoro a tempo indeterminato. Ora, il lavoro subordinato a tempo indeterminato non può essere considerato un arpello del passato, un privilegio. E' una considerazione della dignità, il riconoscimento della dignità dei lavoratori. Ci sono alcune aziende che rispetto a questo possono dare di più. La Fader, noi crediamo, abbiamo già chiesto, noi crediamo che utilizzino eccessivamente la precarietà perché molto spesso la visione che le aziende hanno rispetto al lavoro precario, a queste forme di lavoro precario, è una visione ideologica, lo diciamo con tutta forma, perché non è vero che la precarietà, il lavoratore precario è più produttivo. E' più ricattabile, ma non più produttivo. Tra i propositi del nuovo anno anche la bonifica di bussi. Dopo tante polemiche e rimbalzi di responsabilità, nessuna notizia ancora del destino di quell'area. Noi siamo stati a guardare la finestra finora, però oggi ci sono le condizioni per passare dagli annunci ai fatti. Ed è necessario che la Regione, se questo è un problema e se questa è una priorità, la assuma nella massima espressione, perché noi ringraziamo il Vice Presidente dell'Assessore dell'Attività Produttiva, Lolli, ringraziamo Mazzocchi che ci hanno veramente messo di tutto, però notiamo anche che c'è un silenzio assortante del Presidente di questa giunta regionale, Luciano D'Alfonso. Ci dica cosa intende fare e soprattutto convochi le parti per capire se domani è possibile, visto che la Solvay il 31 di ottobre ha detto, abbiamo comunque, il tempo è scaduto, sono passati ulteriori due mesi, oggi vogliamo sapere se la Solvay è in condizione di chiudere una trattativa con un soggetto economico e quindi se la prospettiva è quella della bonifica e dell'industrializzazione oppure se siamo ancora sul Wagers nell'attesa.